No, era mezzo zing Avete Beric e Ying Non hanno un tank quegli altri Ma che culo Madonna Per poco Hanno Iler uno? Si Hanno Grok Chissà se riuscirò a superarti di livello in questa settimana Esatto Sicuro giocherò a The Sims Anzi mi sa che lo farò già Stavo cercando prima Stamattina cosa scaricarmi Per magari per giocare a qualcosa sto pomeriggio Nessun gioco gira su Linux L'unico che gira su Linux è Team Fortress Beh dai Eh si Boh ma minchia Non volevo qualcosa altro Quattro Epic Games Non posso neanche guardare Perché il launcher di Epic Games Non c'è nemmeno Per Linux Eh Steam si C'è la versione ufficiale di Linux Infatti Infatti In realtà è più Steam quello che è Che si occupa di videogiochi su Linux Infatti c'è anche un sistema operativo chiamato SteamOS Che è basato su Linux Che è stato un flop assurdo in realtà Occhio Ti fa male chi ne sa Madonna Stanno facendo così solo loro Io speravo quasi ci fosse magari risk of rain In Perlino Invece Ecco Giammi chiede Davide C6 Arco dio Si ma in teoria no Ma mi dice Guarda entro domani Entro lunedì Fa fatta sta roba Ma visto che lunedì non ci sei Serve adesso Due giorni di sviluppo Dio porco Probabilmente mi chiamerà anche Vediamo Ha visualizzato Chissà se ha visualizzato quella tizia No cazzo Maledetto Ah me lo son perso Non ha visualizzato Ale perfetto È arrivata una segnalazione Il sito risulta non funzionante Dio porco Ma che succede oggi Non ha visualizzato il segno Perché il sito risulta spesso non funzionante Beh Forse posso controllare Ma mi salderebbe Qualche informazione in più Ok il sito non funziona Ok Qual è il problema però? Ma crepa Ma crepa E' erano tutti lì 17-5 E' erano tutti lì E' erano tutti lì E' erano tutti lì Sta mangiando Non rispondono Non scrivetegli Sky che uccide Sky Ok Inessa Sempre lei Il colpo Arriva da lontano Mille danni Adesso vedrai l'ammazzo Adesso dov'è? Capture point spawning in 15 seconds Che ha viperato il telefono? Ah il gruppo No lo ha... No lo ha... No lo ha... Via Eh? No! Eh vaffanculo Maledetta No! 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 E' un gioco troppo presto Non ha sbagliato la mia idea Che sui 11 minuti va bene oddio doveva essere 13 minuti 8 minuti fa vabbè ma che culo nessuno che lo attacca tutti che lo guardano nessuno che lo attacca aveva una HP io stavo ricaricando ma dai seriamente stupido team ma credo non c'è Rampage 79 e non ti salvi No, cazzo Peccato Devo aumentare un pelino la potenza del salvo Poco è venuto in ritardo Più che altro che va in ritardo Cioè Un piccolo delay È instantaneo Anche se possedi lui Oh porco dio Triciol Bella Però c'è ancora Dredge vivo No, cazzo Ti ha ammazzato a suon di lance? Premi Y Eh sì No, a suon di bomba Ah Però ti ha lanciato anche una lancia Un arpione anzi Deve essere molto interessante lui da provare Comunque Infatti ho paura che quei 60.000 Li userò subito per lui Da, bui chi Lui si è lucido subito Non ho visto tornare il boomerang Lol Stavo per ucciderlo Dai, mancava un colpo Questa è stata dura Beh 82.000 danni I danni 24.11 E guarda 13.19 Madonna, guarda Ying Non ha curato niente Questa è la Intentional feeling però Però ha messo battle pass Allora si salva Iglie Grazie a tutti.